dopo diversi mesi di silenzio radio torna a farsi vedere star wars outlaws il titolo pubblicato da ubisoft e sviluppato da massive dedicato ovviamente all'universo di guerre stellari io sono un po vecchio e lo chiamo ancora così mi piace giusto torna appunto con uno story trailer che ubisoft aveva abbondantemente annunciato e che porta con sé anche la data d'uscita che ve lo anticipiamo non è esattamente quella che ci aspettavamo story trailer che evidentemente insomma ha fatto anche un po storcere il naso a una certa parte del pubblico che l'ha accolto con una pioggia di dislike su youtube ma che a noi invece insomma non è dispiaciuto e anzi ha ravvivato un pochino la curiosità per questa produzione che dopo tanti inciampi da parte di ubisoft ci sembra quella forse un pochino più centrata insomma che sta per arrivare dalle fuscine del colosso transalpino così l'ho dette tutte allora sì siamo partiamo dalla fine nel senso che il trailer si conclude con la data di pubblicazione che è il 30 di agosto che in realtà forse è un filino più lontana di quella che ci immaginavamo cioè per intenderci io me l'aspettavo all'inizio dell'estate per distanziarla il più possibile da Assassin's Creed Red che è il gioco che arriverà sicuramente entro l'anno fiscale quindi entro il 31 marzo 2025 ma ci aspettiamo entrambi che venga pubblicato nel momento Assassin's Creed ovvero diciamo la fine di ottobre all'inizio di novembre sono due giochi grossi due giochi in terza persona due giochi narrativi e open world ci sta secondo me provare a separarli il più possibile a livello di calendario probabilmente invece non saranno così distanziati anche perché immagino che comunque al di là di tutto ubisoft non si voglia perdere né la finestra del black friday né quella del natale vedremo per quanto riguarda red ricordiamo che l'ubisoft forward sarà il 10 di giugno lo hanno già annunciato ma al di là di quello quello che si è visto secondo me di outlaws conferma un prodotto assolutamente interessante era stato il protagonista la one more thing del forward dell'anno scorso con una sezione di gameplay molto molto ricca qui invece se visto uno story trailer a distanza di tanti mesi che secondo me da un lato denota il respiro particolare della produzione che non segue il classico cavaliere jedi super figo un po' predestinato un po' shonen eccetera eccetera ma al contrario una ribelle nettamente in stile han solo quindi una criminale una che deve un po' sapersi arrangiare l'ho trovato di sicuro interesse anche per me che non sono un grande fan di star wars l'ho trovato anche francamente un pochino downgradato ma mai sulla scia diciamo di altre produzioni ubisoft che avevano quasi cambiato volto soprattutto in passato penso a watchdogs trovo invece incomprensibile le critiche che sono piovute addosso al trailer che ancora una volta mi fanno capire quanto è difficile sviluppare videogiochi parlarne e in generale comunicare nel 2024 sì sono d'accordo con te il gioco stavolta è sembrato un gioco un pochino più vero evidentemente insomma nel reveal trailer che poi anche era anche un gameplay trailer certo c'erano un pochino di vogliamo chiamarli ritocchini sì era diciamo così era un po' aggiustato però complessivamente insomma anche in questo story trailer si è visto un prodotto anche molto ambizioso dal punto di vista proprio dell'impatto scenico della costruzione insomma anche del dinamismo di scena devo ammettere che ovviamente quando pubblichi uno story trailer di tre minuti e fa il confronto con un gameplay trailer di dieci minuti è ovvio che lo story trailer risulti meno interessante perché ha meno cose da dire dall'altra l'altra volta insomma c'era da scoprire proprio tutte le meccaniche di gioco e chiaramente banalmente l'altra volta era la prima volta che si vede c'è anche l'effetto è potentissimo in quel caso no assolutamente sì però complessivamente io ripeto ho trovato il trailer molto a fuoco molto ben confezionato quindi un bel appuntamento di comunicazione c'è da dire che comunque in generale un pochino di storture concettuali ci sono dietro a questa produzione che non riguardano appunto né il gioco né la tecnica e via dicendo ma una riguarda strettamente il pubblico di giocatori italiani perché si è stato confermato che il gioco sarà sottotitolato in italiano ma non doppiato quindi è chiaro che gli utenti diciamo nostrani un po' di rimostranze le possono avere l'altro è forse anche la strategia di commercializzazione con le deluxe edition che sono comunque molto costose e che ti danno la possibilità di giocare con tre giorni di anticipo rispetto alla data di uscita e infine forse ha fatto anche un pochino di rumore ma quello a qualche ora di distanza dalla pubblicazione del trailer il fatto che anche chi si comprerà l'edizione fisica dovrà avere per l'installazione del gioco una connessione a internet sostanzialmente il gioco verrà installato si scaricherà quindi la day one patch che ormai diventa un elemento sempre più fondamentale poi si potrà anche giocare offline però insomma se ti compri il disco devi comunque connetterti alla rete sono delle cose che in generale a una certa parte del pubblico non piacciono e secondo me anche ha ragione guarda sì su queste ci posso arrivare detto che ancora una volta ribadiamo una cosa che serve un po non dico per fare cultura con una parola grossa magari per spiegare dei meccanismi che regolano l'industria non è che ubisoft non localizza a livello di doppiaggio il gioco perché improvvisamente gli stanno antipatici i clienti italiani semplicemente fanno dei calcoli e il gioco magari non vale la candela anche perché sembra essere comunque un titolo piuttosto esteso nelle dimensioni questa cosa è venuta fuori poi bisognerà capire quanto però sembra andare diciamo un po più sulla via del quantitativo stile ultima deriva di assassin's creed che non stile mirage per intenderci come un progetto più piccolo e più come dire condensato al di là di quello trovo invece inconcepibili le critiche che sono state mosse sul design della protagonista perché dalla pattumiera che a volte sa anche essere reddit è arrivato pure quello con accuse di essere un gioco woke perché ha la protagonista che semplicemente non è una strafiga tra l'altro non è mai nemmeno brutta nel senso cioè forse le animazioni facciali sono una cosa che magari è leggermente peggiorata rispetto a quello che si era visto in altri ambiti però da lì a pensare che abbiano volutamente messo una protagonista calcando nella mano sui difetti cose folli che si sono lette online veramente quando io ecco mi trovo davanti accuse di questo genere faccio un po fatica a rimanere calmo a non incazzarmi un po a non insultare la gente che le lancia perché mi sembrano talmente gratuite e talmente provenienti da persone che poi non si confrontano con il mondo reale che vivono chiusi nelle loro quattro mura della cameretta che faccio veramente fatica anche a capire quanto possa sradicarsi il medium da una certa immaturità di fondo che è proprio proprio del pubblico scusate la ripetizione però va così al di là di tutto scopriremo come come andrà il gioco hai anche accennato tu che ci sono diverse versioni tra l'altro il gioco sarà incluso al day one dentro ubisoft plus premium quindi l'abbonamento servizio di abbonamento di ubisoft va a posizionarsi possiamo anche magari concludere parlando di quello in una finestra di calendario che secondo me è una buona opportunità per loro nel senso che ad agosto al momento non c'è nessuno di particolarmente grosso sicuramente c'è black meat wukong il 20 che può essere un gioco da tenere d'occhio chi ne fa ancora probabilmente più le spese l'abbiamo già parlato è enotria il souls like italiano che hanno piazzato il giorno dopo il 21 che si trova stretto in una morsa tra un competitor quasi diretto perché non è un souls like in tutto e per tutto wukong però sicuramente parla a quel tipo di pubblico lì e qui è un gioco che immagino godrà di un marketing importante e diventa un ulteriore osso duro sì sono d'accordo altre cose da dire prima di chiudere scusami perché così facciamo una panoramica completa sono già stati annunciati due dlc quindi il gioco ha l'ambizione anche di durare un po e di accompagnare un pochino il suo pubblico due dlc che aggiungeranno proprio dei contenuti narrativi e anche delle zone inedite e appunto io comunque sono anche curioso di sapere poi quale sarà la quantità di questo prodotto si parla già di più di un pianeta visitabile c'è un paragone insomma a livello proprio spaziale con assassin creed odyssey ognuno di questi pianeti dovrebbe essere più o meno grande come due regioni della mappa di odyssey però è molto difficile insomma trarre delle conclusioni da queste dichiarazioni sappiamo quanti sono i pianeti se i pianeti sono 3 4 5 o 12 cambia molto però io sono molto curioso anche di capire se nelle fasi di spostamento fra un pianeta e l'altro ci sarà anche un po di azione quindi un po di combattimento interstellare vi faremo sapere tutte le novità quando magari potremo anche provare il gioco io incrocio le dita perché ubisoft di solito ci fa provare tutto e nel caso appunto vi terremo aggiornati nella seconda parte di questa puntata vogliamo invece parlare di pentiment perché il gioco che di recente insomma è arrivato anche su altre piattaforme abbandonando l'esclusività per l'ecosistema microsoft è tornato un attimino insomma al centro della chiacchierata videoludica grazie a un documentario di noclip che è andato a indagare un pochino quelli che sono i dietro le quinte della produzione il documentario l'ha visto marco quindi ti lascio parlare ma insomma anche un pochino ascoltandoti stamattina ho capito che ci sono degli elementi di interesse che lasciano intendere anche un approccio allo sviluppo un po particolare sì guarda il documentario noclip è una garanzia in generale il documentario è sicuramente molto interessante più per quello che dicono secondo me rispetto a quello che mostrano nel senso che tantissimo del materiale visivo è il gioco stesso da quel punto di vista forse potevano fare un pochino di più ci sono anche dei momenti in cui fanno vedere i vari riferimenti a livello proprio di iconografia medievale eccetera eccetera che secondo me sono anche le parti che funzionano meglio quello che però emerge è tutta una serie di retroscena secondo me davvero accattivanti sullo sviluppo di un gioco assolutamente unico per me uno dei titoli migliori e più originali più speciali voglio usare questo termine degli ultimi anni e per ultimi anni ne intendo proprio parecchi di anni perché poche cose mi hanno lasciato così un segno come ha fatto pentiment forse anche un po per l'effetto sorpresa di cui parlavamo prima nel documentario ci sono tante cose interessanti vi consiglio di guardarvelo dura un'oretta e mezza un po poco meno sawyer parla di un progetto a lui molto caro perché racconta di quando lui sostanzialmente ha studiato prima musica e poi si è laureato proprio in storia e quando è finito per caso nel mondo dei videogiochi partendo dalla parte se non mi ricordo male di web design una roba del genere lui voleva lavorare a tre giochi uno era su dnd ed è stato il primo che ha fatto uno era su fallout e anche quello con new vegas diciamo è uno sfizio che si è tolto e diceva da sempre però volevo fare un gioco che fosse ispirato alla storia perché è la sua grande passione quello gli era rimasto come cruccio fino a che appunto non sono stati acquisiti da microsoft ci sono un po di retroscene interessanti perché dice che proporre un gioco come pentiment era difficile anche a livello proprio di pitch di interesse da parte anche solo dei publisher e invece dice quando gli ha comprati microsoft lui sapeva che c'era il game pass che era uno degli elementi cardine della loro strategia e gli ha detto facciamo una roba più piccola dove mi date non più di 12 persone ma proprio 12 massime poi dice ho mentito perché alla fine eravamo 13 mi date un po di tempo pochi soldi e io vi faccio qualcosa che non vi fa perdere nulla magari non vi fa guadagnare ma sicuramente vi differenzia il catalogo e la cosa curiosa è che dice che microsoft gli ha detto di sì senza neanche vedere un pitch cioè gli ha detto ok fai quello che vuoi perché lui dice mi ero stancato del ciclo dei tripla questa è una cosa che tante volte vi abbiamo riportato anche vi ricordate le parole di il dracman eccetera e quindi dice mi serviva questo spazio questa osi di pace mentale per togliermi uno sfizio e fare una cosa fatta in un certo modo quel gioco appunto è stato pentiment sì io non so quanti dei nostri ascoltatori insomma poi sono addentro alle logiche un po' di produzione ma avere un ok di questo stampo è difficile senza pure avere un'idea del gioco che andrà a sviluppare diciamo sì io non l'ho mai sentito vuol dire che godi sicuramente di molta fiducia tra l'altro lui dice proprio che gli ha detto come condizione fatemi fare questo e poi vi mettete a fare il tripla A grosso che volete voi eccetera non faccio tipo non mostro rimostranze ecco è bella questa cosa gli dicono di sì quindi lui ha l'avvallo per prendere questa dozzina di persone è interessante verso la fine del documentario dicono che ci hanno lavorato tantissimo alla fine tre anni comunque e dice il gioco su cui ha lavorato più tempo ironicamente a parte progetti cancellati e però dicono che nel team c'erano solo figure senior e che quindi il fatto di aver preso solo persone molto esperte ciascuno nel suo ambito ha permesso al gioco di avere un livello di cura un livello anche di workflow che dice è anomalo perché se avessimo avuto dei junior avessimo dovuto fare delle riunioni in più avessimo dovuto incorporare delle persone da fuori eccetera sarebbe stato più problematico così struttura agilissima ognuno lavora la sua cosa abbiamo una guida molto una visione molto salda che è quella appunto di Sawyer che si è basato anche sulle sue passioni personali cita esplicitamente il nome della rosa cita un film russo da cui ha preso metà della trama è il nome della rosa metà è questo film russo che parla di un artista che scopre se stesso eccetera eccetera veramente pentimento in sostanza lo stupore invece secondo me è forte è nell'ispirazione videoludica perché cita esplicitamente e ne parlano a più riprese Night in the Woods che è un gioco indie del 2018 se non ricordo male come il gioco che ha convinto Sawyer a visualizzare l'idea che aveva lui di questo RPG storico perché lui dice quando ho visto quello come si muovono i personaggi quelle interazioni narrative ho capito che devo fare un gioco di quello stampo lì noi siamo famosi per fare delle cose con i numeri con le statistiche con le armi questo doveva essere qualche cosa di molto diverso il documentario comunque recuperatevelo perché c'è un sacco di curiosità sul resto ma soprattutto recuperatevi anche Penty mentre adesso che è arrivato insomma su tutte le piattaforme non avete più scuse veramente un prodotto da scoprire nell'ultima parte di questa puntata invece vi diamo qualche aggiornamento su Electronic Arts e più in particolare su EA Motive che è il team che è stato fondato ormai otto anni fa nel 2015 da Jade Raymond Jade Raymond insomma ve la ricorderete perché insomma il suo nome è stato associato soprattutto ad Assassin's Creed in uno specifico momento della saga adesso lei non lavora più per EA Motive ma lavora per Avent Studios che quindi sta sviluppando esatto un'esclusiva Sony ma EA Motive insomma il nome l'avrete sentito perché l'anno scorso ha pubblicato sostanzialmente il remake di Dead Space e sembra che purtroppo insomma l'avventura di EA Motive con Isaac Clarke e con la dimensione orrorifica sia arrivata già al termine forse in maniera un pochino prematura perché Electronic Arts ha confermato sostanzialmente che il team adesso sta sviluppando solo due prodotti e continuerà così per il foreseeable future da una parte un gioco che ancora non ha titolo ma che ha insomma è legato a Iron Man sì quindi grazie ancora Marvel per questo grande interesse nei confronti del grazie davvero il nostro medium preferito e invece l'altro prodotto è un prodotto legato all'universo di Battlefield Electronic Arts ha confermato anche che la stagione 7 sarà l'ultima stagione per Battlefield 2042 che quindi insomma poi interromperà il supporto continuo ma c'è sempre l'intenzione di rendere l'universo di Battlefield un pochino più ampio espanso e soprattutto di farci arrivare delle esperienze che non siano solo legate al multiplayer competitivo ci saranno infatti anche dei giochi single player delle esperienze narrative di diverso stampo e alcune di queste esperienze saranno sviluppate proprio da EA Motive che si aggiunge proprio a DICE e a Ripple Effect a comporre questo tridente di studi che appunto porteranno avanti il franchise guarda l'impressione mi sembra da un lato palese quella di voler creare una piattaforma alla Fortnite da riempire con vari contenuti mi viene un po' da dirgli auguri perché mi sembra che l'inerzia del franchise sia tutta da recuperare per carità è vero che se la vuoi recuperare lo fai proprio con magari una dichiarazione di intenti così forte mettendo in mostra un po' i muscoli e prendendo dei team capaci mettendoli tutti assieme e provando a creare qualcosa di organico mi sembra una sfida abbastanza complessa aggiungo che se di Marvel Iron Man si era comunque già parlato e aspettiamo di saperne di più o forse no non è che mi interessi particolarmente però è il gioco che stanno sviluppando i lavori procedono da quello che si è capito non è comunque una cosa addirittura d'arrivo mi immagino che possa arrivare con anche un po' di bulimia da supereroi nei paraggi di Wolverine per intenderci l'anno prossimo magari anche in maniera inoltrata il punto è che secondo me qui la grande notizia è quella che dava in apertura cioè avevano rilanciato Dead Space lo avevano fatto con secondo me assoluta competenza sia dal punto di vista tecnico che un po' artistico di scelte eccetera eccetera pensare che nei piani almeno dello studio canadese il franchise non ci sia più mi fa un po' strano poi magari hanno visto che non ha venduto come speravano e quindi non c'è questo diciamo rilancio degli IP che ci immaginavamo magari lo fa qualcun altro non lo so però è strano allora è sicuramente strano io voglio essere ottimista perché Dead Space è una saga che comunque mi piace e di questo rilancio sono stato anche abbastanza contento e spero che lo vogliano dare a qualcun altro nel senso EA Motive è comunque un team non piccolo di per sé sono un centinaio di dipendenti però è chiaro che se lo frammenti quindi lo fai sviluppare più di un titolo in parallelo sostanzialmente poi hai due team che di per sé sono piccolini perché 50 70 persone a seconda delle fasi dello sviluppo è comunque oggi un titolo cioè un team che non è paragonabile a quello alla dimensione dei team che sviluppano AAA soprattutto fra se vuoi fare un gioco nuovo come ci immaginavamo il primo Dead Space è stato un remake quasi uno a uno era probabile che da lì ripartissero non con Dead Space 2 remake ma con un Dead Space 2 che magari pigliava alcuni degli elementi dell'originale ma poi deviava e faceva qualcosa di diverso ancora più di quanto non abbia fatto Final Fantasy 7 Rebirth per intenderci secondo me serve un'altra tipologia di forza lavoro esatto per fare un gioco del genere si ci sta speriamo che possa essere così il punto vedremo insomma lo scopriremo ma comunque insomma nel futuro di A Motive Dead Space non c'è speriamo che ci sia nel nostro futuro di videogiocatori grazie per averci seguiti anche in questa puntata torniamo domani con delle novità in attesa importanti vedremo ciao